Vi dona forza. La voce interiore attraverso Roberta R. guide. È tutto quello che state vivendo che alimenta il vostro spirito e vi dona forza ed energia, perché voi spesso pensate al vostro essere come un qualcosa che si svuota di energia e invece vi diciamo che la carica è continua e costante e che la vostra luce brilla sempre di più. Vi state muovendo tutti verso una luce diversa, verso il ritrovamento reale del vostro sé interiore, della vostra dimensione, perché la chiarezza che avete ora e la lucidità non è quella di una volta e seppure il vostro ricordo vi inganna, noi vi diciamo che è così e se vi sentite oggi meno forti di ieri, noi vi diciamo che non è affatto vero, perché la vostra forza non è segnata da quello che il vostro braccio riesce a sollevare, bensì da quello che il vostro essere riesce a sostenere, dalle situazioni della vita che riuscite a gestire nei migliori dei modi e ogni volta che vivete un cambiamento quella vostra forza brilla di una luce diversa anche quando a voi sembra che quel cambiamento abbia tolto qualcosa.